Oggi parleremo della seconda guerra punica. All'indomani della sconfitta di Maratona Dario prepara la vendetta e quindi si comincia a organizzare un'altra spedizione che però non riesce a portare a termine perché nel 486 Dario muore e così i preparativi di questa una grandiosa spedizione verranno poi continuati e portati a termine da Serse la cui precisa volontà è quella di vendicare Maratona come il padre e quindi di organizzare come il padre un'altra spedizione questa volta ovviamente vincente. E invece qual è la situazione dalla parte dei greci presso le città greche. Abbiamo visto che da Atene prevale il parere di Temistocle che voleva continuare la guerra quindi nessun patto con i persiani continua la guerra perché abbiamo sconfitto, dice Temistocle, i persiani in una battaglia ma la guerra non è vinta e soprattutto il nemico è molto temibile. E così serpeggia tra le polis greche proprio questa necessità di organizzare una lega difensiva appunto la lega di Corinto. A questa lega partecipano le più grandi città greche Atene e Sparta che comunque erano già almeno formalmente alleate in occasione della prima guerra persiana. Argo nemica acerrima di Sparta ma vista la situazione sceglie di appunto allearsi con Sparta stessa e molte altre città circa un poco meno di trenta sono le città che sono diciamo che decidono di allearsi in questa lega di Corinto. Altre non si alleano non decidono di non partecipare. Quella che forse fa più scalpore è Tebe probabilmente senza probabilmente preferendo accordi segreti insomma alleanze segrete con i persiani e vedremo appunto in che modo. A questo punto serse una volta che tutto è pronto nel 480 avanti Cristo attraverso il Bosforo con un esercito gigantesco sconfinato. Questo è l'atto con il quale appunto comincia la seconda guerra persiana. Di fatto però le armate di Cerse quindi l'esercito di Fanti rappresenta solo una parte di questa gigantesca armata che Cerse decide di muovere contro la Grecia perché l'esercito che arriverà in Grecia via terra quindi costeggiando e attaccando la Grecia da nord di fatto era supportato da una gigantesca flotta, flotta persiana caratterizzata da navi persiane, navi degli alleati per esempio anche finisce ma anche di città greche che non avevano aderito la lega di Corinto e questa flotta costeggia la costa greca da nord quindi segue di fatto in mare l'esercito perché ha un compito tra i vari, un compito importante è quello di rifornire l'esercito stesso, questo immenso esercito che si sta muovendo contro la Grecia. Cosa decidono i greci? Qual è la strategia da adottare? La strategia si basa su due roccaforti possiamo dire, da una parte sono i termopili e cioè il passo delle termopili a nord di Atene che è una valle estremamente stretta e alcuni posti non si può passare che uno alla volta quindi è difficile per chi attacca entrare e facile per chi difende diciamo mantenere la posizione e quindi un esercito di fanti diremmo noi oggi un esercito di terra che dovrebbe essere posizionato ai termopili quindi a nord di Atene quindi per bloccare la strada che poi serviva per difendere tutta quanta la Grecia e dall'altra parte abbiamo il capo Artemisio, la flotta questa volta ovviamente di Atene, dobbiamo immaginare, fondamentalmente comunque guida atenese che si colloca nel capo Artemisio per bloccare la flotta persiana. Vediamo un pochettino quale sono le caratteristiche insomma che poi genereranno gli eventi della celeberina battaglia delle termopili. La difesa quindi abbiamo detto il passo delle termopili è un punto saldo importantissimo, viene incaricato alla difesa il generale spartano Leonida che è a capo di 300 valorosi guerrieri spartani. Insieme con lui ci sono degli iloti che sappiamo avevano il compito proprio di essere truppe a supporto delle truppe spartane e altri 4.000 soldati provenienti da altre città insomma. Ma perché così pochi spartani sotto il comando Leonida? Perché Sparta non fornisce un esercito di quelli spartiati che sin da quando nascevano erano educati alla guerra, che erano ognuno di questi una sorta di macchina da guerra potentissima. Per quale regione? Per ragione soltanto 300 spartani. Probabilmente Sparta pensa che sia rischioso impegnare il grosso le truppe in un posto molto lontano dal Peloponneso e quindi la strategia più che militare oserei dire quasi politica è quella di difendere il Peloponneso dove appunto Sparta è presente per giunta difesa resa anche facile perché di fatto il Peloponneso è collegato al resto del continente dall'istmo di Corinto quindi anche in questo caso non si può parlare di un passo stretto come le termopidi ma tutto sommato un passo che potrebbe essere facilmente difendibile. Però questo cosa vuol dire? L'istmo di Corinto si a sud di Atene, vuol dire quindi lasciare in mano dei persiani non soltanto le proprie truppe, le termopidi, ma anche la stessa città di Atene. Andiamo a vedere appunto come gli eventi fondamentali della battaglia delle termopidi. Siamo nel 480 a.C. Lo scontro tra l'esercito che viene da nord dei persiani e le truppe greche è uno scontro notevole. Per due giorni i persiani perdono soltanto tanti uomini, non riescono a passare perché abbiamo detto il passaggio è estremamente difficile ed è un luogo adatto per essere difeso, meno adatto per chi deve attaccare. Però a un certo punto delle guide locali guidano i persiani su un sentiero che permette di aggirare il passo dei termopidi. Su questo episodio si è detto tanto, come per la battaglia di Maratona c'è storia ma c'è anche molta leggenda attorno. Si parla del grande traditore, di Efialte, questo Efialte che avrebbe condotto al di là delle spalle dell'esercito spartano questi persiani. Insomma, di fatto, ecco, gli spartani di Onida si trova, la nottina del terzo giorno, il nemico praticamente alle spalle. L'esercito greco viene disfatto completamente, rimangono soltanto le Onida e i 300 spartani, gli opliti delle altre città scappano, pensano a salvare la pelle e ovviamente quanto può resistere le Onida e 300 persone se l'attacco avviene non soltanto davanti ma anche alle spalle. Si racconta che di fatto due soltanto e questi spartani riuscirono a resistere ma uno si suicidò e l'altro fu in qualche modo perseguitato dall'infamia, tornato una volta in Sparta. Dopo la battaglia ai Termopili, quale sono le posizioni, che cosa si decide di fare? Allora, innanzitutto i persiani hanno sfondato il fronte nord e quindi si dirigono a tappe forzate verso Atene. La flotta a questo punto distanza ad Artemisio viene richiamata in difesa della città di Atene, ma ormai i persiani sono alle porte. Così gli Atenesi vengono trasferiti sull'isola di Salamina, che appunto è di fronte la città di Atene, separata la città di Atene da uno stretto canale di mare. E' importante il discorso che lo stretto di Salamina non abbia dimensioni particolarmente importanti, vedremo perché dopo. E così lasciano la città di Atene ai persiani, che la occupano e la incendiano. Si poteva vedere dalla città di Salamina questa acropoli in fiamme. A questo punto la domanda è come continuare la guerra. Ci sono ovviamente i due partiti. Una parte sono i spartani che preferiscono trasferire gli Atenesi da Salamina nel Peloponneso e affrontare i persiani sullo stretto di Corinto, come abbiamo detto già precedentemente. Ritengono di potercela fare e che comunque, insomma, i persiani non sfonderebbero a Corinto. Temistro, invece, che ha scommesso tanto sulla flotta atenese, l'aveva appunto rinforzata. Abbiamo detto che le spese delle miniere d'argento sono state trasferite per costruire cento triremi, più altre consegnate dalle città alleate, naturalmente e comunque sotto il comando di Atene. E così, di fatto, prevale ancora una volta la posizione di Temistocle. Temistocle vuole attaccare la flotta persiana con appunto la potente flotta atenese e dei suoi alleati. E allora andiamo a vedere come si svolge la seconda battaglia di questo 480 a.C. Dopo le Termopili, dopo la decisione comunque di concentrare la propria attenzione per le prossime operazioni strategiche sulla flotta, lo scontro avverrà a Salamina. Vediamo un pochettino come questo scontro si articola. Noi come fonte abbiamo Erodoto, per cui dobbiamo seguire quello che ci dice questo storico greco. Ci racconta che Temistocle fece arrivare un messaggio segreto a Sers, nel quale si diceva che i greci erano lo sbando e quindi, di fatto, si trovavano in una situazione molto molto difficile. A questo punto Sers decise non solo di credere a questo messaggio, ma decise comunque di attaccare. Che cosa succede nello stretto di mare che separa Atene da Salamina? Si racconta anche che Sers si fece costruito un trono per poter vedere questa battaglia dall'alto. Fatto sta che, insomma, le navi, le Triremi Atenesi alla guida di Temistocle, indietre, indietreggiano e quindi vanno a simulare una fuga. Le navi persiane, che cosa fanno? Decidono di avanzare, avanzare fino a entrare di fatto in questo stretto lembo di terra che separa appunto il continente dall'isola di Salamina. A questo punto, quando ormai è entrata gran parte della flotta persiana, Temistocle è dall'ordine di cambiare rotta, quindi invertire la rotta, e le Triremi greche passano al contrattacco, o all'attacco decisivo, perché le navi persiane colpite da questa mossa, di fatto sorprese da questa mossa, cominciano a indietreggiare, ma a fare manovra, soprattutto per navi molto grandi, ormai anche usurate da mesi e mesi di navigazione, fare quindi diciamo una sorta di retromarcia, quindi tornare indietro in questo stretto lembo di mare, non è assolutamente facile, per cui le prime navi cominciano a cozzare con quelle vicine, non c'è spazio di manovra sufficiente e di fatto insomma si speronano a vicenda le navi persiane, ci racconta erododo che poi quello stretto in mare è caratterizzato da una quantità di legname galleggiante, appunto il frutto di queste navi persiane che appunto cozzarono l'uno contro l'altra, a questo punto i greci poterano naturalmente attaccare e fu ovviamente una strage. Dopo la battaglia di Salamina che cosa succede? I persiani sono quasi completamente senza flotta e questo vuol dire che non ci sono rifornimenti per l'esercito, se vi ricordate abbiamo detto che la flotta serviva fondamentalmente per rifornire l'esercito di terra, ma inserse nei capi persiani c'è un'altra paura, cioè la paura appunto di possibili ribellioni delle città che fino allora erano rimase sottomesse, avevano giurato alleanza, ma erano stretto patti più o meno segreti con la Persia, ma che ora vedendo che la situazione si sta mettendo male si temeva che potessero cambiare posizione e Cerse così torna in Persia lasciando in Grecia il grosso delle truppe sotto il comando di Mardonio. Mardonio decide di accamparsi a Platea, in Beozia, cioè nel territorio della città di Tebe che ormai in maniera non più segreta di fatto è l'alleata più importante per i persiani tra le città greche. E andiamo a vedere allora, ci spostiamo di qualche mese, siamo nel 479 a.C. e proprio a Platea c'è una battaglia, un'altra battaglia importante. Pausania, che era un generale spartano, attacca l'esercito persiano proprio a Platea. Lo scontro sarà violentissimo, questa volta prevarranno non un ridotto numero di spartiati, cioè di spartani molto molto ben addestrati, ma prevarrà tutta la forza dell'esercito spartano e quindi l'esercito persiano di fatto verrà sbaragliato. Allo stesso Mardonio morì in questa battaglia. Negli stessi giorni in cui l'esercito a guida spartana, l'esercito greco a guida spartana con Pausania attaccava l'esercito di Mardonio, quello persiano a Platea, negli stessi giorni abbiamo detto davanti capo Michale si svolgeva l'ultima battaglia con la quale si chiude la seconda guerra punica, cioè la battaglia di capo Michale. Questa volta è la flotta teniese che attacca quello che era rimasto della flotta persiana e ovviamente la annienta. E con questa battaglia di capo Michale, nei stessi giorni della battaglia di platea, si conclude la seconda guerra persiana.